Bentornati su sito www.ifocorsi.it, sono Rugiro Marzocca e come al solito vi presento con il sistema dei video tutorial un software gratuito. In questo caso si tratta probabilmente di uno dei più grandi progetti open source esistenti, il programma è OpenOffice, quindi non è un programmino ma è un programmone, una grossa suite, un grosso pacchetto di programmi per l'ufficio, il sito è it.openoffice.org, quindi senza www all'inizio, it.openoffice.org, vado a cliccare vai oppure primo invio sulla tastiera per andare a finire su questo sito. Si sta caricando la pagina di openoffice.org, pagina in italiano, qui ci sono una serie di spiegazioni, ci dice appunto che OpenOffice è una suite per ufficio completa, rilasciata con licenza libera e open source, che ne consente la distribuzione gratuita. Quindi in pratica legge e scrive file nei formati utilizzati dai prodotti più diffusi sul mercato, questo vuol dire ovviamente che legge tranquillamente i file di Word, di Excel, di PowerPoint, quindi dell'Office in generale, del Microsoft Office, con la differenza che Microsoft Office è un software a pagamento anche molto costoso, e invece OpenOffice è un software gratuito in quanto open source. Può essere interessante sapere che c'è questa particolare ed importante caratteristica, ossia OpenOffice è in grado anche di gestire il salvataggio nel famoso formato PDF, formato normalmente utilizzabile con i programmi di Adobe, ma che molti software open source consentono di creare e quindi anche OpenOffice ha questa capacità. Andiamo a cliccare ora su Download, quindi, per poterci scaricare il programma e poi poterlo installare. Stiamo per scaricare tra l'altro l'ultimissima versione, la più aggiornata, la versione 3, che è uscita ad ottobre del 2008, quindi appunto molto recentemente, e ci occuperemo appunto di installare quest'ultima versione. Clicco Download, attendo che si carichi la pagina dello scaricamento, eccoci qua, siamo ancora, di la verità, in una pagina intermedia, quindi devo cliccare Procedi al Download per andare avanti, Procedi al Download, finalmente dovrebbe apparire la pagina dove ci sono le versioni scaricabili. Vedete, ecco, siccome OpenOffice è stato prodotto per varie piattaforme, qui dobbiamo scegliere quale è la nostra, la nostra piattaforma è ovviamente quella di Windows, quindi noi scaricheremo la versione per Windows, ma è interessante sapere che questo programma open source esiste anche per Mac OS, quindi per i computer Apple, nonché anche per computer equipaggiati con Linux. Quindi io vado a scaricare la versione Windows, clicco su versione Windows, attendo, ecco qui, ecco benissimo, è uscita la finestra di scaricamento, in pratica questa è una prima finestra di protezione in cui Internet Explorer, il programma che stiamo usando per navigare in Internet, ci chiede se vogliamo eseguire il file direttamente da Internet oppure scaricarlo, salvarlo. Noi ovviamente lo vogliamo salvare per poi installarlo in un secondo momento, è sempre così che facciamo quando scarichiamo un programma. I programmi sono facilmente riconoscibili dall'estensione .exe, quindi vado a cliccare, quindi questo poi sarà il nome del file che stiamo scaricando, questo nome così lungo, con l'estensione .exe. Vado a cliccare salva e lui mi chiede dove voglio salvare. Io ho già preventivamente inserito la mia pennetta USB e andrò a salvarmi il file lì dentro, ma poi voi potete scegliere una qualsiasi memoria di massa disponibile sul vostro computer. Considerate però che il file che stiamo scaricando è parecchio grande, sono quasi 150 MB, quindi ovviamente scegliete una memoria su cui avete sufficiente spazio. Io ho selezionato la mia pennetta USB, è una pennetta da 2 GB, quindi anche se ci sono già alcune cose dentro lo spazio a disposizione è più che sufficiente, quindi ignoro le cose che già ci sono. Il nome del file è lo stesso di prima, openoffice.org, o o o appunto, versione 3, win sta per Windows a 32 bit, piattaforma Intel, quindi è il file versione Windows, quello che abbiamo appunto scaricato. Excel è l'estensione, sotto infatti dice salva come applicazione, cioè come programma, applicazione vuol dire programma. Clicco su salva e parte lo scaricamento, ecco ora ci metterà qui dice un paio di minuti perché appunto sono come vedete 141 MB, quindi è un file piuttosto grande, piuttosto grosso. Adesso io a Della Verità preferisco mettere in pausa la registrazione, poi, e anche perché qui il tempo stimato sta anche un po' aumentando, quindi metterò in pausa la registrazione per poi riprenderla in un secondo momento quando lo scaricamento sarà completato. Dunque, sono passati come vedete 28 minuti e 20 secondi per scaricare questi 141 MB, ovviamente la velocità e il tempo di scaricamento poi dipende da quale linea utilizziamo, da che velocità della nostra linea DSL avremo. Comunque sia, una volta finita questa cosa, io posso chiudere la finestra del download, chiudo anche la finestra dell'Internet Explorer e vado ad aprire la mia pennetta perché era lì dentro che avevo salvato, quindi vado nell'icona della mia penna USB. Qui dentro, insieme ad altre cose, quindi insieme ad altre icone, ho questa qui, OpenOffice.org300, va bene? Quindi questa icona è quella del file di OpenOffice e devo, appunto, andare ad installarla. Dunque, farò doppio clic su questa icona per far partire la procedura di installazione, ecco che sta partendo. Quindi dice, grazie per aver scaricato OpenOffice.org, quindi questa è solo una finestra di presentazione, posso tranquillamente andare avanti nella procedura guidata. Qui ci spiega che prima di installare OpenOffice, i file di installazione devono essere decompressi e salvati nella cartella indicata qui sotto. In pratica, come vedete, sul desktop sta per creare una cartella che si chiamerà OpenOffice.org e che conterrà i file di installazione. A dire la verità, questa cartella, alla fine dell'installazione, la potremo tranquillamente cancellare. Serve solo durante la procedura guidata di installazione. Quindi vado a cliccare Decomprimi e adesso devo attendere questa decompressione. Quindi bisognerà attendere che questa fascia azzurra, questa fascia blu, compia tutta questa strada. Sta in pratica, ecco qui, estraendo i dati. Una volta finita la decompressione, ecco che dice preparazione dell'installazione in corso, e appare un'altra finestra sempre della procedura guidata. Benvenuti all'installazione, eccetera, eccetera. Clicco su Avanti. Qui ci chiede qual è l'utente della persona che utilizza il computer. Vabbè, poi si può scrivere un po' qualsiasi cosa, il proprio nome o uno pseudonimo. E si clicca su Avanti. Sceglieremo di fare ovviamente un'installazione completa. E quindi ancora avanti. Vedete che è facilissimo, non sto facendo niente di particolare. Ci chiede se vogliamo creare un collegamento sul desktop ad OpenOffice. E noi lo creiamo. Quindi clicchiamo Installa. Parte l'installazione, ora ci sarà da attendere qualche istante, finché l'installazione non sarà completa. Come avete visto, la procedura è stata molto semplice. Non ho dato alcun tipo di configurazione o di impostazione particolare. Ho soltanto sempre cliccato su Avanti. Ecco qui, ora ci sono varie operazioni che devono essere eseguite. Ovviamente bisognerà attendere un po'. Dunque, ho messo in pausa la registrazione. Adesso la sto riprendendo perché non volevo appunto rimanere con la registrazione attiva mentre faceva tutte le operazioni di installazione. Comunque in questo periodo in cui non ho parlato, non ho registrato, ha fatto tutto da sé, non ho dovuto dare nessuna impostazione, finché ad un certo punto viene fuori questa scritta. Installazione guidata, completata. Quindi adesso ho ripreso la registrazione da questo punto finale dell'installazione. Devo soltanto cliccare Fine. Vado a cliccare Fine, chiudo la finestra di risorse del computer che avevo aperto inizialmente e come vedete sul desktop, oltre alle icone già presenti, mi appare l'icona di openoffice.org. Attenzione, c'è anche questa altra icona, la cartella openoffice.org.installation.file che è quella di cui vi parlavo all'inizio. In pratica è una cartella che è stata creata solo per l'installazione e adesso si può tranquillamente cancellare. Va bene? Quindi non serve più una volta terminata l'installazione. Clicco tasto destro, elimina, la butto nel cestino ed è finita lì. Invece il programma openoffice è bene e pronto. Io poi tra l'altro su questo computer avevo installato anche l'office di Microsoft, quindi Word, Excel, Access e PowerPoint, ecco qui le loro icone. Questo innanzitutto vi fa capire che i due programmi non vanno in conflitto tra di loro, quindi potete tenerli tranquillamente entrambi installati sullo stesso computer senza problemi. E ora noi cercheremo di fare magari un confronto tra il Microsoft Word e invece l'openoffice writer, il programma appunto di openoffice che corrisponde al Word. Intanto oltre a questa icona, questa è l'icona che mi apre l'openoffice genericamente, poi una volta aperta, ora la sto aprendo, una volta aperta potrò scegliere se voglio scrivere un testo o se voglio usare un foglio elettronico e così via. Intanto comunque alla prima apertura, facendo il primo doppio clic, ora c'è una piccola attesa, ci farà alcune domande di completamento della procedura di installazione. Attendiamo che si apra perché alla prima apertura ci fa questo questionario. Va bene, quindi l'installazione è finita ma una volta aperto il programma, la prima volta dobbiamo dare delle indicazioni. Quindi clicco su avanti e vuole sapere di nuovo il nostro nome utente, io ho detto metto un nome totalmente generico, lascio vuote le altre caselle, poi vado ancora su avanti, vuole sapere se vogliamo impostare openoffice per cercare gli aggiornamenti su internet in maniera automatica, ovviamente noi lasciamo spuntata questa casella, vado ancora su avanti e vuole sapere se ci vogliamo registrare, la registrazione è gratuita, serve per ricevere poi delle email sulle novità del mondo openoffice. In questo caso, per non perdere tempo, metterò non intendo registrarmi, il programma si può usare liberamente senza problemi anche non registrandosi. e clicco fine. Ripeto, questo questionario iniziale appare solo la prima volta che ho aperto il programma. Ora si dovrà aprire il programma vero e proprio. Eccolo qui, la prima apertura è sempre un po' lenta. Ecco, una volta che si è aperta la finestra, adesso la devo un po' ridurre per farla entrare tutta nell'area di registrazione. Ecco qua. Una volta aperta la finestra, dicevo, openoffice ci chiede quale dei programmi del pacchetto vogliamo aprire, perché ovviamente openoffice non è un singolo programma, ma un pacchetto di programmi. C'è il programma per scrivere il testo, che quindi equivale al Word, il programma delle presentazioni, che quindi equivale al PowerPoint, il programma del foglio elettronico, che equivale all'Excel, ed il programma poi del database, che equivale all'Access. Poi ci sono anche il programma di disegno, openoffice draw si chiama, e poi il programma mat, che serve per scrivere formule matematiche per quelli che magari lavorano in questo campo. Ora dicevo, noi abbiamo aperto questa finestra, ora la vado a chiudere, da questa icona che avevamo sul desktop, ma in realtà poi abbiamo anche i comandi di apertura in start, ecco mi sposto un attimo, se vado a cliccare start, e vado a tutti i programmi, c'è anche qui una voce, che dice openoffice, ora la devo un attimo spostare, perché altrimenti non si vede, eccola, la sto spostando qui, l'ho messa qua, quindi la voce è openoffice.org 3.0, eccola qua, dove ho tutte le voci, sia quella generale che avevo anche sul desktop, e poi sia quelle singole, quindi openoffice.org.writer, questo è l'equivalente del Word. Mat è quel programmino per scrivere le formule matematiche, quindi sicuramente lo utilizzerete molto meno, insomma. Impress è invece il PowerPoint, diciamo così, va bene? Calc è l'Excel, Base è il database, quindi l'equivalente dell'Access. Draw è un programma di disegno in più, diciamo che può essere paragonato a Microsoft Publisher, che è sempre incluso nella suite Microsoft Office. Quindi qui trovate l'accesso a tutti i programmi singoli, e chiaramente io posso mettere tranquillamente sul desktop queste icone, facendo tasto destro, invia A, Desktop, e quindi per esempio adesso mi ritroverò l'icona di OpenOffice Writer anche sul desktop, ora magari ce le metto tutte in maniera tale che mi è più comodo. Invia A, Desktop, anche per il calc, metto anche il Base, invia A, Desktop, e metto anche l'impress, poi gli altri due li lascio stare perché sono, diciamo, meno interessanti. Ecco qua. Quindi una volta poi richiuso Start, chiudo Start, eccole qui le icone che ho creato si sono piazzate qui, le vedete, sono queste. Ecco, magari adesso le andiamo un attimo a spostare più qua, e ci rimettiamo con la visuale centrale che avevamo inizialmente. Benissimo. Quindi, provo ad aprire il Writer, che è l'equivalente del Word, va bene? Mentre il Calc sarà l'equivalente dell'Excel, il Base sarà l'equivalente dell'Access, e l'impress sarà l'equivalente del PowerPoint. Quindi qui adesso ce l'abbiamo proprio a confronto, questi otto programmi, a due a due a coppia, quindi sono a confronto tra di loro. Cominciamo con il Writer. Vado ad aprire il Writer. Si aprirà la finestra, ovviamente adesso si apre grande, io poi la devo un po' ridurre per farla entrare nel quadro della registrazione. La prima apertura, ripeto, è sempre un pochino lenta, adesso appena si finisce di aprire. O forse non ho fatto bene il doppio clic, riproviamo. Probabilmente era colpa mia. Ecco qua, il programma si è aperto. Devo un attimo ridurre la visuale. Ecco qua. Allora, come vedete, già ad un primo sguardo si vede che è molto simile al Word. Ora, qui sotto ho la possibilità di aumentare e diminuire lo zoom della pagina, lo vado un attimo a diminuire per far entrare la pagina tutta nella schermata. Come vedete, io posso scrivere una qualsiasi cosa e poi, eventualmente, la posso formattare, così come faccio in Word. Vedete, avete Time New Roman, i vari caratteri, va bene? La dimensione, insomma, non ditemi che non è uguale ed identico al Word, perché a me sembra proprio perfettamente uguale. Ho anche il colore del carattere, anche questa è un'icona molto simile a quella di Word, quindi, per esempio, lo potrei fare rosso. Ecco qui. E poi ho tutti i menu sopra, per esempio, il menu delle tabelle per inserire delle tabelle. Anche qui, i comandi sono pressoché identici a quelli del Word. ho il menu inserisci, da cui posso inserire, per esempio, delle immagini, ecco, oppure posso inserire anche, che ne so, ecco, dei riferimenti incrociati, dei segnalivi, sono sempre comandi note a piedi pagina, sono sempre comandi molto simili al Word. C'è la possibilità di usare l'intestazione al piedi pagina, ecco, qui magari è un po' diverso, perché nel Word io faccio visualizza, intestazione al piedi pagina, mentre qui ho inserisci, intestazione, inserisci piedi pagina, però, ecco, a parte queste proprio leggere differenze, in pratica il programma è equivalente, e posso tranquillamente aprire anche documenti di Word. C'è quest'icona PDF, che è molto importante, perché mi permette di salvare direttamente nel formato PDF. Per esempio, questa è una funzionalità che nel Word manca. Ora, chiudo il writer, e apro un attimo il Word, che però certamente già conoscete, per mostrarvi appunto che si tratta di due programmi perfettamente identici. Anche qui riduco la dimensione della finestra, in maniera che sia visibile nella nostra area di registrazione, eccola qua. E quindi, come vedete, in pratica, gli stessi comandi, i programmi sono perfettamente equivalenti. Ora vado ad aprire il Calc, per confrontarlo con l'Excel, quindi apro il Calc, oggi il computer purtroppo è un po' lento. Ecco, qui si è aperto, quindi una volta aperto il Calc, anche qui, praticamente, notate che è identico all'Excel. Facciamo un esempio, quindi io scrivo, per esempio, gennaio e premo invio, torno su, posso tracinare, come faccio in Excel, per avere gli altri mesi, posso scrivere dei valori accanto, e poi posso eventualmente ottenere facilmente la somma con il tasto di sommatoria, proprio come in Excel, quindi ecco qua, ho ottenuto il totale. La formula, come vedete, utilizza la stessa identica sintassi delle formule di Excel, quindi praticamente, sono perfettamente equivalenti i due programmi. Anche qui chiudo, inutile che vada ad aprire l'Excel, avete visto che è praticamente uguale. Il Base lo lascio per ultimo, poi vi spiegherò perché, e vado ad aprire invece l'Impress, che sarebbe l'equivalente del PowerPoint, quindi lo vado ad aprire, attendiamo un attimo, ecco, una volta aperto il programma, io devo scegliere se voglio fare una presentazione vuota, una presentazione da modello, oppure una presentazione già esistente, facciamo una presentazione vuota, e vado a cliccare avanti, poi vabbè mi chiede qui alcune informazioni, però in questo caso clicco direttamente Cria per creare la presentazione, si sta aprendendo il programma, devo sempre, come al solito, un attimo ridurne la finestra, per farlo entrare nel nostro riquadro di registrazione, eccolo qui, bene, la stringiamo anche sotto, perfetto. e anche qui, come vedete, io vedo una grande somiglianza con il PowerPoint, abbiamo qui per esempio tutti i layout di pagina, posso per esempio facilmente creare una diapositiva, titolo e testo, così come era in PowerPoint, e ci sono poi tutta una serie di altri layout, ecco qui, paragonabili a quelli del PowerPoint, e poi ovviamente, cliccando per scrivere il testo, posso tranquillamente scriverci dentro il titolo, e così via, anche qui ovviamente poi appare la barra di formattazione, con i tipi di carattere, con le dimensioni dei caratteri, c'è sotto la barra di disegno, come in PowerPoint, questa qui, per inserire disegni più o meno semplici, la possibilità di creare grafici, come in PowerPoint, tutto uguale come al PowerPoint, in pratica, e anche questo lo vado a chiudere. Avevo lasciato per ultimo il base, cioè quello che è l'equivalente dell'Access, perché purtroppo questo è l'unico dei quattro programmi che pur essendo molto valido, un ottimo programma, e quindi un ottimo gestore di database, in realtà non si può certamente dire che sia uguale ad Access, utilizza in pratica dei comandi diversi, e non è compatibile con Access, nel senso che non riesce ad aprire file creati in Access, nel base appunto, ed è l'unico programma che ha questa eccezione, perché il writer apre tranquillamente i file del Word, ecco ora intanto si è aperto il programma, stavo dicendo, il writer apre tranquillamente i file del Word, il calc apre tranquillamente i file dell'Excel, l'impress è anche perfettamente compatibile con il PowerPoint, quindi il base è un'eccezione, nel senso che non è compatibile con Access, non può aprire database creati in Access, e anche nell'utilizzo è un po' diverso, per esempio qui faccio crea nuovo database, clicco fine, mi chiede dove voglio salvarlo, come vedete l'estensione ovviamente non è quella di Access, è un'altra, ora salverò in una cartella qualunque, una volta creato il database devo sempre stringere la finestra per lo stesso motivo di sempre, la stringiamo, ci accorgiamo che il programma diciamo che è un po' diverso, eccoci, per esempio quelle che in Access chiamiamo query, qui si chiamano ricerche, quelle che in Access chiamiamo maschere, qui si chiamano formulari, poi ci sono i rapporti che sono i report, ma poi purtroppo nel momento in cui andiamo a creare una tabella per esempio piuttosto che una query, cioè quella che qui chiama ricerca, vediamo che proprio i comandi di creazione sono un po' diversi, quindi obiettivamente questo è l'unico dei quattro programmi in cui si possono trovare delle difficoltà se ci siamo già abituati a lavorare con Microsoft Office, se poi invece dobbiamo iniziare a lavorare direttamente con questo, chiaramente cercheremo di abituarci direttamente ai suoi comandi o di studiare direttamente i suoi comandi e comunque si tratta di un validissimo programma di database. Quindi qui praticamente termino il mio tutorial, vi ho presentato quindi i quattro programmi che fanno parte di Open Office, il Writer, il Calc, il Base e l'Impress, li abbiamo confrontati con Word, Excel, Access e PowerPoint, abbiamo trovato magari difetto diciamo così soltanto sul Base che obiettivamente non corrisponde esattamente all'Access pur assomigliandogli ma ha dei comandi diversi e non è compatibile nel senso che non può aprire i file creati in Access. Al contrario gli altri te Writer, Calc e Impress sono perfettamente compatibili con i tre cugini di casa Microsoft, aprono tranquillamente i file creati con questi tre programmi e hanno anche dei comandi molto simili quindi se ho già imparato ad usare Microsoft Office tranquillamente posso utilizzare le mie competenze anche su questi tre programmi. consiglio quindi a tutti quelli che non avendo Office sul proprio computer e non volendo spendere una grossa cifra per acquistarlo consiglio a tutti di installare OpenOffice programma gratuito OpenSource avete visto che l'abbiamo scaricato gratis da internet ed installato in pochi minuti e che poi vi dà tutte le possibilità che vi darebbe il programma a pagamento ancora una volta il mondo dell'OpenSource ci sorprende e ci lascia veramente stupefatti. Arrivederci al prossimo tutorial vi consiglio di installare OpenOffice lo consiglio anche a quelli che hanno già Microsoft Office perché come avete visto le due cose possono tranquillamente convivere io qui ho installati entrambi e non fanno il conflitto tra di loro ma funzionano tranquillamente insieme. e non fanno ma funzionano e non fanno ma funzionano capolino